Buongiorno da Eleonore, sto facendo una eliminazione di legamento cimiteriale su di un uomo nel quale è stato riscontrato da me appunto questa presenza di questa fattura. Come potete vedere benissimo c'è il pene caratteristico della cera di quasi tutti i legamenti e appunto è qui, potete vederlo bene di fianco qui a sinistra della candela. Poi come vedete in terra c'è anche la parte del torso di un uomo, potete vedere gli addominali e appunto un punto sul chakra ulacara e svatistana. Questo cosa significa? Che il legamento appunto ha colpito questi due chakra e anche nella diagnosi attraverso le carte questo era il risultato. Ora aspettiamo la fine del rituale per poter finire appunto la valutazione della cera. Comunque questa cera sta parlando veramente tantissimo, veramente una struttura di cera che parla. E successivamente valuteremo se serviranno altri lavori per finire questa negatività, comunque verrà valutata nel tempo.